Sono la coordinatrice dell'area salute donna e bambino e in DAPS dal 2021 mi occupo di coordinare il lavoro di 120 ostetriche attualmente presenti nell'SST Settelaghi. Sono un'ostetrica e mi chiamo Simona Nigro. Sostengo e guido il mio team di ostetriche e infermieri nella rappresentazione fattiva di figure di riferimento per l'empowerment di donna e bambino, non solo nel percorso nascita, ma lungo tutto il ciclo di vita. Siamo presenti nei punti nascita, negli ambulatori e sul territorio. Nel 2020 ostetriche e infermieri hanno assistito alla nascita di 3831 bambini, i nostri futuri cittadini, a cui auguriamo di testimoniare la passione e la cura che SST Settelaghi dispone ogni giorno e in ogni servizio per ogni persona. L'area donna e bambino necessita di un impegno che include il lavoro di molti altri colleghi, un'interconnessione di professionisti e relazioni che desidera portare un messaggio di eccellenza e vicinanza a tutta la famiglia, che per noi è il punto fondamentale per il benessere di ogni singolo individuo. Per questo mi impegno ogni giorno affinché la maieutica, il far nascere le migliori idee e le migliori persone portino valore all'interno del gruppo che coordino. Puoi contattarmi via mail all'indirizzo simona.nigro-asst-settelaghi.it oppure telefonicamente allo 0332 299456. Benvenuti alla DAPS!